Il campionato si va a Biceglie, come avete preparato questa gara? Come trovare le motivazioni giuste? Dopo il giusto riposo ci siamo ritrovati e ovviamente dobbiamo fare ancora l'ultima partita e onorare questo campionato come giusto che sia, anche perché altre squadre hanno onorato il proprio campionato e quindi ci siamo preparati per affrontare questa gara nei migliori dei modi, portando a casa sicuramente un risultato positivo. La cosa più importante in questo momento è eliminare le scorie sicuramente positive comunque di quella bellissima prestazione di domenica scorsa. Sì, domenica abbiamo dato tanto, qualcuno ha giocato anche stringendo i denti perché aveva qualche fastidio, ma non solo domenica ma anche nelle partite precedenti. Quindi sicuramente farò un bel turnover, farò giocare qualcuno che magari ha giocato poco perché comunque bisogna dare un po' anche di stimoli agli altri per cercare di prepararci al meglio per quello che saranno i play-off nazionali che ci saranno tra sei settimane. Che tipo di risposta si aspetta da questi giocatori che hanno avuto meno spazio in questa gara? Mi aspetto la risposta come quelli che hanno sempre giocato. Quindi volontà, voglia di fare, l'occasione giusta per far sì che possano far emergere le proprie qualità magari oscurate da chi in questo momento stava meglio di loro o tatticamente erano, diciamo, come dire, come seconde linee, ecco, ma tra virgolette seconde linee perché io non reputo nessuno seconda linea. Però in questo momento c'erano giocatori che magari tatticamente stavano dando di più di quelli che magari in questo momento hanno giocato di meno. Mister, oltre un mese fermi. Come vi state organizzando? Soprattutto è preoccupato da questo, nel senso che la squadra rischia di perdere il ritmo? No, no, assolutamente non sono preoccupato, anche perché c'è uno staff, diciamo, che è competente. Quindi sicuramente abbiamo già bozzato un programma da questo punto di vista, abbiamo già ragionato su quelli che sono gli obiettivi da tenere ben mente quindi come obiettivi principali dal punto di vista sia condizionale ma soprattutto dal ritmo gara e la mentalità della gara è quella che noi non dobbiamo perdere assolutamente. Ma al di là se possiamo fare amichevoli o meno, anche perché c'è un campionato in corso quindi anche volendo fare amichevoli diciamo che rientrerebbero in metà settimana e questo a noi è poco congeniale considerando che, diciamo, in questo periodo dando un po' di riposo e visto che c'è anche Pasqua sarebbe un po' difficile quindi tocca a noi cercare di fare allenamenti che si avvicinano quanto più al dato gara ecco, questo è importante. Quale squadra non vorrebbe incontrare nei play-off? È una domanda secondo me che per me le squadre che arriveranno ai play-off nazionali sono tutte importanti e quindi se vuoi ambire alla Serie D Forse quest'anno in maniera particolare Chi ti capita devi affrontare cioè non c'è scelta non sei tu a scegliere saranno i play-off regionali della Basilicata a decidere se Melfi, Lavello, Vultur saranno le squadre da affrontare sicuramente troveremo squadre blasonate come Melfi che è una decaduta come Vultur, come Lavello che sono squadre che hanno fatto categorie importanti quindi chi sarà sarà all'altezza di affrontare un play-off nazionale e noi saremo orgogliosi e come dire stimolati da affrontare questo tipo di gara ovviamente ricordiamoci che noi nelle ultime sei partite abbiamo affrontate squadre tutte di livello quindi nel campionato quindi è importante non perdere questo tipo di atteggiamento Cosa resta di quella bellissima giornata di domenica scorsa? Lei vive anche la città sembra che sia scoccata quella scintilla che si attendeva da tempo È stato qualcosa di bello io pure è uscito il bambino che è in me mi avete visto, ero contentissimo ma ero contento per il modo con cui ci siamo arrivati perché vedere la squadra soffrire in quella maniera e vincere il 9 contro 11 ti scatta qualcosa dentro cioè se avessimo vinto 3 a 1 2 a 1 ma 11 contro 11 4 a 1 3 cioè sarebbe stato forse diverso io credo che proprio il modo con cui abbiamo vinto questa squadra ha dimostrato a tutti ancora una volta che ha gli attributi e che può fare qualcosa sempre di più di quello che ti puoi aspettare grazie a tutti grazie a tutti